Nelle ultime settimane i casi covid sono aumentati. Il picco, avvertito anche in Lomellina, è stato facilitato dall'arrivo delle temperature fredde. I test positivi in crescita non riguardano solo gli adulti, sono proprio i più piccoli quelli a rischio contagio. Devo dire che per la prima volta abbiamo registrato di casi di coinfezione covid più influenza nello stesso bambino. Le raccomandazioni sono le stesse, lavaggio frequente delle mani, distanziamento da chi ha una sintomatologia di tipo respiratorio. Soprattutto gli adulti che hanno questa sintomatologia consiglierei l'utilizzo delle mascherine proprio quando vengono a contatto con i bambini più piccoli. Alcuni casi riguardano bambini di uno o due mesi, questo perché non sono protetti dal vaccino. Il consiglio dei medici è quello di evitare di portare i neonati in luoghi chiusi e affollati. Sarebbe meglio che i genitori prediligessero passeggiate all'aria aperta per non mettere a rischio la salute dei bambini. Nell'ultimo periodo anche lo streptococco ha colpito parecchi piccoli pazienti. Anche a Vigevano si è registrato un aumento dei casi. Per svolgere ecografie precise e linfonodi serviva un nuovo ecografo. L'associazione Federica Griffa ha esaudito il desiderio del reparto pediatrico vigevanese. Ha donato un ecografo di ultima generazione del valore di 40.000 euro. Grazie al dono, inoltre, i neonati potranno essere sottoposti ad ecografia polmonare e cerebrale.